Due anni di ricerche durante i quali il professor Francesco Giovanni Maria Stoppa con i suoi studenti è riuscito a classificare il Cenerone, il vulcanello che da oggi fa parte del nuovo parco geologico di Borgo Santa Maria di Pineto. Ha una struttura conica simile, e lo dice il nome stesso, a quella dei più comuni vulcani di lava, ma con caratteristiche geologiche e geofisiche completamente diverse. Si tratta di un vulcano di fango come ne esistono in tutta Italia, diciamo in una zona abbastanza precisa che si trova di fronte all'Appennino, vanno dalla regione emiliana fin alla Sicilia. Sono fenomeni geologici molto interessanti legati alle forze attive del nostro pianeta. In questa zona sono anche le stesse forze che poi in qualche modo producono la formazione dei monti, ma anche i terremoti, quindi è importante studiarli. Anzi, qualcuno pensa che l'attività dei vulcanelli sia anche in qualche modo legata alla preparazione di terremoti, però quello che noi sappiamo è che in realtà emettono idrocarburi e acqua salata. Questo di Pineto è il terzo più grande d'Italia, naturalmente ci sono campi di vulcani più importanti di questo, però per l'Abruzzo diciamo che rappresenta una particolarità geologica interessante per gli abruzzesi, che amano la natura, che amano osservare fenomeni naturali, ma anche per i turisti che possono venire qui a vedere una curiosità che magari da loro non c'è. Il vulcanello negli anni passati ha subito purtroppo l'azione dell'uomo. I campi coltivati tutto attorno hanno costantemente ridotto, addirittura interrotto, lo sviluppo verso l'alto del Cenerone. Grazie alla disponibilità dei proprietari del terreno in cui si trova il vulcanello, è stato possibile realizzare il parco geologico unico in Abruzzo. È stato importantissimo negli ultimi due anni più che altro provvedere a una sistemazione dell'aria che era stata pesantemente sfruttata dall'uomo, anche sporcata, diciamo avvilita. Adesso noi con questi lavori che sono stati fatti dall'amministrazione comunale cerchiamo di liberare, abbiamo liberato il vulcanello da questi fili spinati, abbiamo consentito alla vegetazione di ricrescere, soprattutto è stato eliminato il dreno che toglieva un po' la linfa vitale. Qui nascono delle piante uniche, cioè solo qui nel punto in cui sorge il vulcanello. Sì, data la grande salinità e la composizione chimica delle acque e del suolo, solo alcune piante diciamo che riescono ad adattarsi a quest'ambiente sopravvivono. Questo è importantissimo perché la capacità di adattabilità a condizioni estreme è una sfida che anche noi come specie umana dobbiamo affrontare ora che si stanno palesando tutti i sintomi del cambio climatico, quindi possiamo imparare anche da una piccola realtà come questa quali siano le risorse della natura e quali siano le buone pratiche che bisogna mettere in funzione per sopravvivere a una natura che sta cambiando e che può diventare ostile.